ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale e soprattutto bentornati nella nuova puntata di scontro di regni la serie in questa nuova puntata andremo a vedere come aggiornare come far evolvere un eroe innanzitutto andiamo a vedere gli eroi che io possiedo come potete vedere andiamo altare degli eroi o cavalier morte ad una potenza di 124 arriverà a 140 poi il druido che ho la potenza massima 120 però per aggiornarlo come potete vedere mi servono 50 mila stelle e adesso non mi interessa aggiornarlo perché con cui sia a livello serie della stella in alto a sinistra quindi abbastanza potente e soprattutto di vitalità quindi ripristina del 250 per cento il valore di attacco di 7 alleati vicini eccetera eccetera a 6 barra 10 quindi sei decimi quindi è molto molto forte pari minazione rianimazione a due ottavi poi abbiamo dio del tuono a 103 di potenza il ninja a 100 e io questo volevo andare aggiornare però vi farò vedere gli altri poi abbiamo gozilla di neve abbiamo carnefice a 100 quindi 5 stelle livello 100 poi abbiamo assassino licantropo ciclope panda sciamano ciao a tutti regina serpente poi ragazzi come potete vedere gli eroi si distinguono in leggendari che sono questi cinque gli elite sono questi fino al demone dei ghiacci è molto forte perché rallenta anche la velocità poi abbiamo lui il tritone che come potete vedere come talento alla rianimazione a 5 ottavi abbiamo quelli normali che sarebbero in valga un amo che infatti lo schiaffa tutti quanti nelle torri velo massimo 60 perché è l'unico livello che si raggiunge utilizzando 3000 onoreficenze quindi 3000 stelle di più non ci spenderei perché sono davvero scarsi ma io spenderli nemmeno per gli eroi elite ma per eroi leggendari quindi andiamo ad aggiornare il livello 5 del ninja livello 100 quindi andiamo a mettere su potenzia come potete vedere passa da danni da 2811 a 3096 un bel salto in avanti il problema del ninja è che c'è poco di vitalità infatti come deve 12.935 arriva a 14.000 a 235 faccio un attimo la differenza come potete vedere ne so ad esempio dio del tuono 2442 d'attacco e il cuore sarebbe livello dei pdf che c'è 17.760 e ninja c'è 12.935 di more subito però più forte soprattutto infligge un danno del 500 per cento al bersaglio e c'ho quattro decimi poi c'è vabbè il secondo talento che sarebbe la tua distruzione però lasciamo stare andiamo a potenziarlo ragazzi servono 30.000 onoreficenze 135 fiamme si prendono tramite dungon e 300.000 monete ma noi ci sono tutte e tre questi requisiti quindi andiamo a potenziarlo perfetto è passato dal livello 5 al livello 6 e io gli vado a dare subito utilizza andiamo su guadagni esperienza siccome c'è un po dei libri da spende e andava da un paio ok per raggiungere lo 101 poi altri libri li butto tutti l'investo anzi non li butto sul cavalier morte che il mio preferito e li spendo tutti qui bene ragazzi come potete vedere questa è la mia playlist di eroi vi sfido diciamo inviatemi tramite i commenti oppure tramite facebook tramite whatsapp non so come volete voi inviatemi oppure i nomi con livello della potenza dei vostri eroi così ci possiamo confrontare insieme bene ragazzi per questo video è tutto ci vediamo la prossima puntata ciao amici da mario dexter